eccoci qua, subito subito aveva visto? ci voleva, Nando? aspetta che qua Roblox mi pare che non lo catturava sto cazzo di UBS, quindi devo fare questo qua, yes, però aspetta, perché cattura quello di qua? ma? ma è pazzo, non deve catturare quello di qua, no, non va bene, perché lui dovrebbe catturare l'altro, schermo uno deve catturare, eccolo qua, eccoci ma, ci sono o no? ah, ci sono, allora, mamma mia, che abbiamo qua? ultimate tool defense, qual è l'ultimate tool defense? vabbè, stanno facendo i miei amichetti, cosa giocano? questo sta giocando a star defense, Fano che sta giocando? Fano sta giocando un cazzo aspetta, io qua non sono entrato oggi, aspettate un attimo, metto a prendermi qualche gettoncino com'era qua F11, ok, ma che gemmina che serve sempre che cos'è qua? RIPPER, mmm, no facciamo un piso subito 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 accumuliamo dimensione con qualcuno, vediamo se c'è qualcuno bastate, già sono battiti i pezzi di infango lui cerca di aiutare a questo, ce ne soffrono poi due, mi pare, vediamo una dimensione con almeno due persone, ha visto? almeno due persone ecco, ce sono, vediamo, ha visto che c'è il joystick, ma siamo seri, si può giocare con il joystick, ma? ma da quanto? la prima volta che lo vedo, ma davvero con il joystick? no, su, voglio ma c'è il joystick che sto giocando, lo che? non lo sapevo che strano, giocare con il joystick, che è un problema facciamo veloce, 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 Alex, tu che fai? stai facendo di bello ok, questo l'abbiamo fatto, ma io ho cambiato modalità, ma guarda, che se c'è, sei andato, ma c'è, beh, non lo sapevo scriviamo affano, vediamo se c'è, allora in questa modalità possiamo riuscire quello che è stato fatto, l'abbiamo fatto, dove sta giocando Fano, che è Toronopoli? cazzo c'è, ma, eh, ma, eh, sarebbe, cazzo sarebbe, proviamo, eh, no, non proviamo niente, dove, dove si esce? cazzo di modale da prova, quell'altro pazzadino ultiverso vediamo che c'è di nuovo ho capito che fa gioco a monopoli ok guarda queste tutte con la mica se c'è legge dai vai tu tu che mi soniccio ho andato fino a 20 nel 2014 nel 2020 con più di un giocatore ecco il giocatore qua evoca 15 volte proviamo qua papapapam comunque il evento di è impossibile che è impossibile? che è successo che è impossibile? vedo cazzo lo devo mettere sto scemo qua se riuscirà a ammazzarli la vedo brutta bravo freezer inizio nemici con più di duemila di vita ebbè non è che è impossibile deve avere si fa in compagnia penso più persone sono più facile diventare non male aspettate questo lo modifio lo porto qua ok comunque tocco tocco no va bene troppo devo fare due livelli Alex viene dammi una mano aiutami ma in tutto questo che sto portando Roblox sotto è me? ah lo sono io c'è un altro ragazzo per poi c'è colante pataco ok solo che di storia tu sei più avanti ma perché sono più avanti di demo spieghi cioè fammi capire tu come fai le gemme cioè devi andare avanti con la storia non ti capisco infinite codice e passa qualche codice che non ho messo se ci sono codici nuovi passa scriviamelo qua in chat che le metto subito ma le posso mettere mentre gioco no ma perché si vede un'icursale del già cosa ah perché ho collegato ci ho collegato i cursor i jpad ecco l'altro giochino devo dire che lo sta giocando a cosa del trenino sicuramente è un'icursale update 1 forse lo ho messo forse devo vedere non li posso mettere qua veramente che gioco ma che sta succedendo finisselo con una stella lo potenziato però non ho capito come farlo fare l'altra stella che dove fare l'altra finisselo con una stella per fare che cazzo ne so quale aspetto sei tu ai forse in che senso forse non li ho provato manco tu a farli aspetta fammi vedere dove arrivano il raggio di cose qua quindi lo metto questo qua che è sempre l'ultima l'ultima ondata della tortura di balles oh per adesso però mi trovo bene a questo team vai adesso appena arrivo a 10 metto bulma se gli faccio i soldi voglio vedere a fare povere cose voglio fare povere cose prima questo a caino qua un caino livello 30 mi pare che si può fare ride giusto fa l'evolver ritorniamo che fasto però faccio du cazzo velocissimo ho fatto due livelli ma come è possibile la cosa a posto dove è dove è la mia bullman ho fatto ho fatto qualche missione però o no perché non l'ho fatta contata 20 15 mi consiglio di prendere questo ma si prendiamo questo che fa che fa con questo cosa che mi da che mi ha dato che mi ha dato che cazzo mi ha dato non ho capito non mi ha dato niente ti ha dato delle gemme ah ma paffanculo non l'avevo vista le gemme questo codice l'ho usato guarda questo non lo devo usare questo me lo consigli? ti sblocchi a kaza o sengoku? ah ma quelle là me lo consigli questo no? ma hai provato vabbè allora proviamo poi se trovo mi casa gialla ho trovato mi casa a posto culo mi casa? ciao nezzuto non mi casa? ho sbagliato pure le nuove affanculo altro nezzugo mi hanno detto che fotte eh beh non li conosco questi di qua mi hanno dato 2 di nezzugo 3 di nezzugo che culo quando si diceva di culo eh viola viola qual è? guarda quella quella ce l'ho oggi è la 2 di nezzugo guarda verità eh vabbè no ma la vuole dare dai eh dammelo eh 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 azzurra saca cura madonna ma questa è proprio schifosissima vabbè ho finito le gem posto nezzugo no me lamento eh se nezzugo è fotte me la potenzio pure eh appena c'ho il gem bianca direttamente grigia la luto proprio subito vaffanculo cazzo c'è qua ma cosa era gialla era gialla ho confuso le pull che vuol dire ho confuso le pull 3d è pazzo impazzito due volte che la gialla diventa grigia va bene tutto è neruso ma ma t'è un'affanculo eh ma è una cosa ehm no non posso scegliere non posso scrivere mungor io mentre vaffanculo tutto cause uno me lo tengo pericolto no tu no tu non ti tengo pericolto si vabbè vabbè ti lascio pericolto chi è questa luce tutta luminosa ma quello che hai trovato ma sono superato pure il livello che culo allora fammi vedere una missione aspetta un attimo questa devo fare l'infinita ma lì me l'ho andata con più giocata questa è l'infinita oh che culo devo fare l'infinita dove sei dove è andata a finire eh non ci gioco da molto andiamo a fare l'infinita andiamo su una mecca va è facile ma vabbè andiamo tutti quando siamo cazzo c'è forte più siamo è meglio eh più duriamo pure anzi meglio l'infinita l'infinita che cazzo c'è avrà questo che l'infinita i mostri raga io non difendo potete difendere poi eh mi potevo fare i bisotti avanti metto un frizz sasì andò bene spara frizzer oh frizzer spara siamo in questo opinione va bene questo frizzer è babbo che ha per una monetina guarda quello che metteva eh te valeva io non l'ho trovato ma come modo sto gioco è un po' buccato perché ma quando ne puoi mettere di bulma non c'è la velocità pare di no è un po' lento devi dire sul gioco la scatola è ok ho fatto ho fatto l'isolotto questo gioco manca il P2 o il P3 vuole andare un po' più veloce è un po' lento guarda per favore quindi se va a manca è ahia ma chi è che mi sta agguantando o tre tempo? vabbè barbat che non ci saranno proprio che manco saranno scottando conoscendoli mi hanno lasciato il look sicuro l'anime world of defense hanno aggiunto che cosa? l'hanno aggiornato mi sto capendo che sono sti codici così l'anime world of defense nel mio discord dove ci vado allora? dopo questo ci vado vabbè ne ha messi tutti e tre oh che sboroni tu che fai? non fai niente Alex? guarda la mattina non fai niente guarda guarda è 17 stai andato a vedere il tuo personaggio beh ha avuto un culo trovare quella di patica è è è Sì, è giù me. 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 Se giochiamo bene, speriamo che Bud se lo compra oppure gli fai un regalino tuo a Bud. Sì, giochiamo tutti e tre. Io fino a vendettino riesco a accender più i pc. Ah, buono, a posto. E allora basta. Abbiamo durato troppo e vi lascio. Ah, posso piazzare solo cinque, eh? Solo quattro. Ah, buono. Posso piazzare solo quattro, che balle. Ah, beh, è doppio turno. Vabbè, vabbè, adesso la settimana non ci fa niente, poi si ripensa alla prossima. Sempre se ci sarà la prossima. Speriamo che rispondano. A tre miliardi di culi. O di culi come ho mandato, ma sì, lavoro. Vado a vivere per contegno. Io ho sempre privato più a cano, secondari. E' giù, me... Facciamo sabato mattino e domenica. Poi, da lunedì, poi c'è... Ok, tre fila. Ok, ok. Vediamo fino a che è andata di via. Guarda che è bastato, questo come me l'ha messo. Allora, guarda che è andata di via. un server come fai a prendere i regali, meglio un server privato con i tuoi account in che server non c'ero, non so che evento hai fatto visto che è stato per natale, io già a natale ero qua a notte che mi sono trasferito, il computer non ce l'avevo, ma è arrivato ed eccoci qua abbiamo finito, non posso posizionare più niente, a posto spawn a pop a natale che troppava di regalo sulla mappe, vabbè vudo culo hai vudo culo, fattelo dire è tutto un po' di regalo, che bastardi, vabbè quello che hanno fatto questo evento è un po' brutto vabbè se vi provate è gratis, sennò che bastardi che vuole bad ah bad no, non trova il server di quel giochino, vabbè eh quindi sei entrato con un paio di account, hai capito forbetto comunque è una missione che arrivavo a 40, 50, vabbè arriviamo quando dobbiamo arrivare, tanto mi danno pure le gemme ahi ahi, che giochini rilassanti l'ho visto da youtube ahah furbettino furbetto aspetta che io quella live devo caricarla su youtube prima che mi dimentica dove è non contenuti video aggiungo questa pagina tanto qua sta facendo tutta cosa lui sa, espori pubblico e via si fa il devasto ah si ora che livelli, due livelli li fai subito subito che ha 30 che cazzo ci vuole per arrivare a 30 poi a 30 che cazzo ci metto io vediamo ci metto albin così mi manda i cavallini chiiii sicuro che l'ha messi questo? l'ha messi quella la guarda guarda ma Jimbo quello è guarda sta mettendo cosa l'ha trovato che culo l'ha trovato elvin elvin o che cosa aspetta si chiamava qua qua fa un po' caldo spostiamoci grazie e qui questo elvin è una cosa ma elvin giusto ce l'ho pure ma l'ha fangoso io non lo trovo qua Levi scusa Levi non lo trovo 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 sti due a posto ma è contento non sono uno che può trovare l'unità fottissima se gioco me le da io sono contento se gioco me le da vaffanculo come bad visto che bad dice che mi sto guardando guarda sta giocando a trenino il bad sta giocando a gioco del trenino guardate tutti quelli che stanno giocando tutti comunque è un gioco nuovo tutti madonna guarda bad è messo invisibile guarda che ah guarda si è messo là guarda che strozzo ah 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 st'ho scamarato sceglione ah 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 St' ho scamato pad ah 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 no ma tutta Twicc italia quelli belli grossi stanno portando quel cazzo di giochino poi lo porto e non mi caga più nessuno solito stalkerone come si dice il lupo perde pelo ma non è un vizio strunzalo poi secondo te perché faccio queste modalità? apposto per stalkerarti puttenella è vero che sto facendo male ai denti apposto siamo aaaah sto cazzo di dente è dentista di merda non è già il 60 eeeh senti batte ma lo tuo cazzo è già il 60 non è già il 60 vale di gioco fate la partita in solitaria metti quella dei multiplayer che oggi è domani se vuoi una mano che è che ha bloccato ma perchè non hanno detto di no? il tezzo ok sto infame che dice di no fa lì passare 52 è buono perché dobbiamo arrivare a 100 sono potenziati tutti? tutto è potenziato ma non c'è il 60 eeeh batte non sono io creatore di quest server papà non lo vedi tu per me c'è aspetta ragazzi devo vedere devo vedere una cosa lui dice che non c'è il 60 tuo cazzo è finito il gioco vedate un attimo si è un po' di giochi poi le devo cancellare non ci fate caso chi apri? che è successo? vabbè quando apri vediamo se non c'è il 60 perchè per avere il 60 è stato un cazzotto che dobbiamo fare? vabbè aspettiamo 57 facciamolo così è apposto non si vedo quello sotto eeeh sto aspettando che carica quest'altro che è quel giochino che ti dicevo casa non so se tu ci potresti giocare o se ce l'hai è simpatico con i pokemon mostri chat noi chiamiamo i pokemon ma aspettate un attimo mi sta avendo un problema mi sa che non lo legge vediamo ecco appunto poi conosco il mio polio del mio computer poi non lo conosco mi pare che non lo conosco ma ti ho visto giocarci si lo so sei passato ieri e ti ringrazio che volta che passi vedete in compagnia però se ce l'hai oppure hai altri giochi dimmelo organizziamo per giocare insieme io sono uno che piace tanto giocare in compagnia perché se no da solo mi rompro le palle da solo mongo è gratis se no lo devi comprare su steam o se no se hai il gunpass di xbox lo prendi gratis costa aspettate un attimo dov'è lo faccio vedere subito e dov'è l'hanno tolto vabbè l'hanno tolto una minchia ma se mi faccio qua i più venduti ma non c'è ma qua le più vendute ma e che è successo aspetta può essere impossibile le più vendute non c'è è impossibile davvero non c'è ah qua questo vabbè non è pagliato la che mi manca a me mi fa vedere quello che mi manca a me ma è questo costa 26 e allora no scusa vabbè ma te lo devi comprare ci giochi ma mi sa che non me l'ha letto manco stavolta no si è ballato di nuovo e quando mai ah no non si è ballato e perchè però non me lo fa vedere lui dice non si è ballato però qua non carica vado a capire sto gioco ok no fa così fa il gioco è stronzo l'ho fatto da quando l'ho comprato è in alfa cioè lo stiamo testando noi giocatori e se ti apro altri giochi aprono subito non è perchè è roblox 66 ma quando vogliamo arrivare accendolo uno e due e poi quando voglio farlo voglio smardare quella martina di patta non me lo permette manchi gioco a se che vuoi superare la classifica? con chi con questo qua che non pensa che c'è una classifica in coppia ma perchè non va? non va, però mi sfonda manco l'icona vabbè fangolo fangolo bat ah c'è, vabbè siamo arrivati alle 70 prendiamo quel cazzo di gioco visto che non si vuole aprire peggio per lui ecco visto, non lo legge, poi lo legge, poi lo legge, fangolo vabbè c'ho qualche aggiornamento? si, devo aggiornare quelli guardate pante, punt, guardate vabbè guardate pante, guardate guardate, pante Come fai? Guarda, guarda, Freezer passa. Ciao Freezer! E' stato bello! Ciao Freezer! Andiamo insieme? Vai dai, andiamo insieme! Guarda come si lancia quelle! Guarda, CTG siamo a 72 però! Ciao Freezer! E passa che siamo a 73! Metti sì, coglione! Eccolo! Eccolo! Che mi hai detto tu? Non mi hai detto niente, sei zitto! Di benedico! Eh no, quando il cazzo solo si vado! No, che fa a chi? No, che fa a chi? ecco l'utilizzo è impazzito sto coso perché me lo fai utilizzare? perché me lo fai utilizzare? vabbè vengo a prendere quello lì che mi potrebbe servire più avanti un altro che attacca da un'aria buono come? l'abbiamo superato il 73 e dai dammelo un altro medico ti prego mi ha dato un altro medico di niente mi odia sul gioco non 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 qua io non i non vabbè, vabbè, ho capito sto gioco è favoloso vuoi un altro infiniti? no, basta, 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 infiniti vediamo che mi dà allora, io ho 22 gem ah, mi ha dato 100 gem io non voglio il gem dammela qua, meno l'unità, ti prego dammela qua vabbè, 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 vabbè vabbè, 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 vabbè finito le missioni vabbè, come le faccio a prendere queste? ah, secondo me è da quello vieni, 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 vieni entra anche tu, entra anche tu, vieni anche tu prova a venire, veloce meno siamo in 4 ma che sei arrivato? uff, che culo ma perché sei arrivato? andati vabbè, proviamo tutti e due qua ah, sei livello 10, che culo che culo ma li faccio ma non credo siamo nel livello giusto ma secondo me non è il livello è la velocità di mettere i personaggi oppure come si faceva su Animal Adventure dovevo mettere i personaggi quasi alla fine si, vabbè, ciao, sempre balla clicca clicca ma già l'ho visto guarda la prima volta che lo faccio allora, dove è loro? io devo capire dove vengono loro ma dove arrivano? loro arrivano da qua, ecco se loro arrivano da qua, è molto lontano noi possiamo metterli qua, i personaggi se riusciamo andiamo a guardare per fare i soldi qua perché credo hanno? in che senso? no, non so ne fare che sto dici? è bello, vi dice sono ne fare vabbè, io ho fatto quello dei soldi non so ne fare ma vedo come corrono poi altro che ne fare ma vedo come corrono poi ok, ci vado più persone in due eh sì, ci vado più persone ok, ci vado più ok, non lo faccio mettere qua beh, io mi ricordo che toglievo tutto tutto su zanna che è questo eh, possibile che è, ho visto la propesa cosa vuole più pensare ah beh il livello se ne siamo di più ce la possiamo fare secondo me dai dai allora la missione c'è questa qua c'è devi raggiungere il dovere sconfiggio è andata a 30 infinite più se va bene o male eh questi si stanno organizzando andiamo veloce veloce entra dentro siamo meglio a me dice 700 ma non vedevo 700 ma vedevo 2000 dove siamo siamo un pochetti livello 3 livello 30 buona c'è ne fa lui io non faccio niente vabbè livello 3 poi con un go vabbè 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 Qua siamo in 6, ma? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Abbiamo finito? C'è il Nello 5, ma? Nello 3, sono rimasti tutti C'è il Nello 5, ma? C'è il Nello 5 C'è il Nello 5 Oh, sì! Ma li vedo pure io! Ma che c'è? ora sono tornati normale ma sono baccati sono baccati come facciamo non ci arrivo per 5 io posso cazzo per dire serious freezer ma qual è il tuo problema fammi capire anche a me dire serious freezer e me lo cuoco ma che ne so ne so niente gg c'è giù cazzo ok è impossibile se non lo stai vedendo è impossibile allora io devo andare a vedere l'altra modalità perchè hanno messo un codice e vediamo che questo qua si bisogna avere tutti i mego all'elocento e come cazzo lo fai a livellare all'elocento non c'è vero che potevo dargli la mani perdono sono coglio invece di venderli allora come si faceva a mettere il codice il codice regalo qua 500 puzzle 5000 aspetta che devo vedere se sono brutto happy livello 15 richiesto giusto ho visto che ci sono altri codici che io non ho messo tipo questo non l'ho messo appunto quindi mettiamolo pure della mia boso mettiamo pure qua i miei disc poi ma c'è pure questi questo pure è un codice vediamo se è un codice aspetta alex se stai scrivendo non ti sto leggendo eppure questo è un codice ma faccio tu cazzo non lo sapevo questo è pure un altro mi pare c'era un codice guarda quanti codice c'è solo su sto cazzo di modale dai bello mi piace e poi che ci sono tutta una bella crismas che avevo scritto io e pese fai sto cazzo a posto fatte tutti le devo livellare questo che ma nel frattempo sai trovare qualche raro non mi dico di no trovare questo questo non mi dico di no ho trovato cazzo l'ho trovato il goku vabbè ma rosso un altro to goku rosso ecco la rara vera vera quella rara era questa invece questo gioccio un doppione doppione questa è pure bella come può dare da Ale non so se l'hai provata è l'era mi pare quello leggendario buuuu bello sticico così e lasciare di sarebbe la trotta leggero facceta rosso si ci ho giocato si ci ho giocato ah vabbè ero malo superare era questa era operare vaffanculo però io clicco mi avevo visto altri superare vabbè superare vabbè doppio di mele se li mangi ok bordo l'ele dammi l'ele l'ele vediamo che mi dà guarda un altro mi sta rubendo il cazzo però fammi vedere posso vedere che mi dà come l'ele aaaaaaah ma che è successo questo vorrei mmm io ce l'ho trovato qua c'è Aizen mmm ciao ok ho sbagliato spesso tutti i soldi d'altro cosa come è meglio qua uh mi ha dato blood quindi buono come un altro non ho visto vediamo vediamo se lo vedo da me non ho visto manco da l'altro schermo sono un po' veloce in quel caso tutte cagate uuuu attenzione una leggendaria leggendari bella non c'è qua non c'è non c'è vado a far nulla allora che cazzo fanno tutto su tutto pippetta fanno pippetta fanno eh vabbè io poi che clicco veloce l'altro blu ma io non voglio blu voglio questo dov'è questo voglio shades oppure ma no eh vorrebbe mandare forse l'altro blu blu lui che stai a fare Alex sei qua volevo aggiungere il ma scrive più Alex e e e partito niente cagate go per il copyright che hanno fatto i capelli in ciala quell'altro dai per il copyright dov'è no non c'è qua adesso l'ho trovato i capelli in ciali uh pegasus ultrarare guarda per il copyright li hanno fatto i capelli in blu vai 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 che fantasia per il copyright però questi li hanno fatto bene investigatori questo mi paga ma vado a trovarlo se posso volverlo uh skullet bello però ripeto voglio shence sto incazzando però non soffrendo pure le gemme pin trovato vabbè un altro mezzo un'altra fai che shence fai che shence che cazzo è leggendario ranking o filo vabbè contento o per takio come si dice più bello sto giochino che l'altro di prima cioè qua mi chiede le trovi e bene sai ci giochi volentieri di là invece non le parole ho trovato un cazzo e ora me ne ho dato un altro mi ha dato niente come c'era il uere uffantini per il copy me lo hanno fatto uno di capelli uno di capelli voglio chance me lo ho dato e chance no, non me lo ho dato no, non me lo danno vabbè madonna che bando schifoso che era oh, diciamo questo non l'ho trovato questo è il Giro e l'ere mi ha dato una torta king ma buttate proprio il cozzolo di scienza le palle ho finito? sì, ho finito i soldi grazie ho fatto finire i soldi unità allora, le mie unità sono tutte queste scienze non ce l'ho appunto, non ce l'ho ahah, me l'ha dato a scienze affanculo a scienze allora, laboratori vediamo che potevo fare evolvere questo serve per fare cosa? non è solo questo non l'avevo mai visto ah, queste sono quelle che mi fanno diventare ultra mirage si, ma guarda quanto cazzo ci vuole anti cappa di rosse si, vabbè, guarda questo è il Lidl lo sai, questo è il Lidl sette foto di quella 500 qua qua falla diventare così ci vuole tutta sta roba falla diventare così ci vuole che lo uso e devi fare 65 e boleone poi 12 di questo qua ce la do questo invece devo fare questo è il mio pupillo poi ce n'è un altro qual è l'altro mio pupillo che dicevo che devo fare evolvere pure bello questo si, ma fallevolvere è difficile l'hanno fatto azzurro uh, questo potrei fallevolvere però per un R e una cagata zio Pippo qua mmm questo è chiarito ma dove è finito l'altro ma non c'è poi se ho fatto volerla cazade se freezer freezer devo trovare un altro freezer usarlo per fare un bilione e cinque pagina di bazar non posso fare va bene nessuno eh questo è Heids no questo è Heids cazzo se dice go 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 black devo usarlo non è che 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 stavo facendo volvere ace eh sì doveva ace ace che c'è che ho del mio team che devo fare volvere fammi tutti esci da qua allora questo qua si può fare volvere eddio quello eddio dove eddio delle città qua e per fare vabbè dio devo usarlo stavo facendo un bilione buono questo dove si fa pillar cave questo dove si fa pillar cave pure questo e dove è pillar cave avventura forse no non è qua adesso cosa pilla cave forse è qua ride pilla 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 no qua non è questo è qua bello questo se batto questo vedrà richiedito vado a provarlo vado vado se vedrà richiedito vado a provarlo proviamolo e poi stacco che vado venire a vado a provarlo a vado a provarlo vado a vado a vado a vado a vado a secondo me non ce la faccio mi impressione mi fai mettere quello per i soldi per favore sono qua beh io si gioco pure ma non tantissimo tantello e penso che sono più forte di te eh vabbè pazienza pazienza sei più forte di me contento tu contenti tutti e allora mi sto provando per la prima volta questo evento non so cosa dopo tanto tempo che non ci gioco vediamo poi conveniamo ma penso che conveniamo un cazzo e si passa altro che nooo dico se vuoi vengo proprio a men 2 a fare cosa? a fare qua? eh no è troppo poco stacco ti volete detto a poco stacco che è l'orario aspetti ritorno però non so se ritorno in live ma per giocare bene ti mando la richiesta questa che me l'hai mandata eh aspetta vabbè apriamo di qualsiasi che sei questo persone sei online sì penso che sei questo penso vediamo vediamo se vediamo se lo manda nooo non ho visto vabbè è una mala roba non ho visto un cazzo eh l'ho accettato ok la modalità di giochi di solito vabbè vedo subito 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 ehm 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 anim è anim è besser pc. che è anim è besser besser pc? allora anim è scelta ecco quello ci gioco pure io ehm ehm Simulator, quello ci gioco pure io. Nuove modalità non ce n'hai no? Tutte quelle che vedo sono tutte abbastanza vecchiotte. Era per presenza. Le organi invece Simulator, StarTower, Defender, ci gioco pure io. Quindi lì, che livello sei? Che cosa c'hai? Guarda qua, completiamo ste cose. Io l'OV6 non l'ho trovato. Cioè non mi fa trovare l'OV, guarda aspetta, faccio vedere prima io qua. Meglio delle pallole, dov'è? Cooler 7 ce l'ho, Goku 7, non ho avuto tempo di farlo. A che ora stacchi? Fra pochissimo. Perchè fa così sto gioco qua? A levati. Sta caricando. Tempo che carica. Quanto manca per il pass? 81. Che pochissimo. Poco pochi? Poco pochi in che senso? Comunque io questi ce n'ho pochi. Devo livellare. Devo... ... 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 di questo smetto devo fare un video no vabbè che cazzo me l'ha regalato sto coso mentre ma vai la scrive bene questo me lo devo fare luffi però non è giusto che è? no non faccio niente non me le balla me lo devo fare con luffi bastanna vuole fare un infinito ci sta è un infinito eeeh quanto dura sto infinito? vabbè andiamo a fare un infinito va dove sei? dove sei? ma questo mi ha regalato un pacco che mi ha regalato ancora è uscito in chat? no non è uscito in chat non è uscito in chat che mi ha dato eh vabbè paziente infinito interno io Goku 7 Mediode S7 non l'ho fatto evolvere che vuole? chi è sto Nicolaro? eeeh vegeta 7 che è vegeta 7? che vampira legina bella catene che cazzo? no vuoi questo? sempre dai per questa ah ce n'hai due allora niente ma questa? niente ciao ma gente cos'è? eeeh vegeta 7? qual è vegeta 7? per esempio questo vegeta 7? questo? questo? o questo? o questo? questo è Gohan tu hai Goku Goku? eeeh lo so vedi Oddas? eeeh non lo so perchè non l'ho fatta evolvere ma ce l'ho pure io ma dove cazzo è finito qua? ce l'ho schifo io qua madonna eeeh e lì Oddas dove sei? ma poi le vegeta 4? questo l'ho fatta con vervore ho questo e ho un paio of beers ho questo d'altro un broli un paio di scambi l'ho fatto c'è un casino dove è Meliodas? eeeh eeeh è sparito Meliodas l'ho fatto alle ferie questo l'ho fatto evolvere se mi manca a me love love come l'hai fatta evolvere? devi avere 5 love no? eeeh 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 l'ho aperte già mi ha dato questo dov'è? aspetta vai ah sono aperte si uno l'ho regalato al mio moderatore e uno me l'ho sottenuto io dov'è? ho trovato questo con 5 love 5 star e 5 piratea e si però però love se no me lo dai qua io come lo faccio? se no me lo mettono qua io come lo faccio? col culo poi non ce l'ho manco più manco monedina adesso vabbè comunque sei qua stai venendo facciamo questo infinito veloce veloce se ne fattempo faccio pure qualche gemma qualche unità per potenziare i personaggi social killer è uscito appena faccio aspetta facciamo trade perchè devi fare trade? cosa cosa voleste? fammi capire eh eccolo qua sei quasi il mio livello passato? e questo è no questo non ce l'ho Dio acqua vediamo forse ce l'ho Dio sub c'è ce l'ho mi dispiace c'è ce l'ho c'è ce l'ho ma tu sei tutto ma non ti seccare ma non te lo darò mai social killer non ti seccare ne ho uno e te lo da te anzi aspetta mi ha fatto venire pure l'idea di provarlo Windows 7 a nato togliamo questo e dove è social killer ora li facciamo e orb togliamo l'orb dove cazzo è l'orb ma non l'aveva l'orb ma lol poi l'avevamo messa l'orb ah l'ha messa qua non ce l'ha messa eh beh pazienza la mettiamo a lui tanto per andiamola mettiamo questa infinita veloce veloce che? puffi tu eh non ce l'ho il puff che puffi non l'ho portato il puffi che puffi eh l'idol idol eh si vabbè domani idol vabbè e che cazzo tocco vabbè tocco katanas eh questa volta questa volta buffo io si si ho capito ho capito lo so vai entra che è? si ce l'ho il P3 si ce l'ho il P3 entra HZ P3 che è HZ P3 non è un giorno che si gioco sul gioco ma io vedi che ero come video 600 come livello un po' di più forse visto quante cose ho fatto di quella la di E.D.I.E caro ok quasi provo quest'altro facciamo allora dove entro ti qua 700 750 costa per ci mettiamo cover qua momentaneamente pap 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 mettiamo GF mettiamo GF c'è Goku 7 e la sono P eh si lo so ma se non li trovo cioè Goku ce l'ho ne ho due per farlo evolvere è un po' un di tetto a quel posto e penso che tu lo sappia eh penso che lo sappia no? ecco faccio un di tetto a quel posto la stessa cosa è cosa un amichetto love è l'abilità silent eh beato te che l'hai fatto love io anche non vedo love da un pezzo perché appena ho saputo che si poteva fare non volevo farlo io si si regala è è è è è ma faccio lo cazzo io ho potenzialo questo ho 3040 poi minchia però guarda quanto fa ho fatto il ticket per l'eser eh poi vabbè ho fatto bene io ce l'ho poi manca solo love e google evoluto mi manca poi dei di hx la caspita si chiamano mi manca giren da trovare eh e gas come e poi ho completato tutto ce l'ho tutti ma ora ora mi ci metto mi ci metto come una volta e inizio a farle evolvere ora ho pensato ad altru visto che mi sono traspedito ma ma che è che ha fatto il danno? ah ma è il goku forse ma no non è il goku ma che è? ma sono il loro due ma vaffanculo sto mettendo paura dentro ma che cazzo è? e mi pare che l'idolo non devo farli fare l'ultimo livello tipo vero? ricordamelo non devo farla fino all'ultimo quando era l'ultimo? che non me la ricordo da tanto che non la uso quando era il dodicesimo o undicesimo? si si l'ho messo l'ho messo tranquillo però sto dicendo quando era il massimo? era il dodici quando era? ah non ho ancora voglia pure ok fino al potenziamento prima che poi hanno fatto stare minchiata cioè uno non lo sa perché è una colpa tutta tutta devi fermare il potenziamento prima di fare max ok ok stai tranquillo stai tranquillo va ancora l'ultimo aspetta che non lo vedo ultimo 2 3 1 2 2 3 basta non devo più toccarla giusto? oppure c'è una ancora che è successo? zip pubblicità no no poi un altro poi no no poi un altro sei sicuro? ok poi basta ok fino a ok ok 4 milioni può morire la 4 milioni può morire la la uso poco il mio team è quello che hai visto prima per la storia per le missioni per il raid uso sempre quello poi vabbè dipende dai raid devo cambiare devo quello per fare il luffy devo mettere quello di home piece ahia sta facendo maledente posso sempre ma quando è che ti giochi su sto gioco? cioè io sto gioco da quando è uscito da tre anni il gioco è uscito a quattro anni l'ho fatto pure le live cioè sembra strano che sta avvenendo adesso a me sei un nuovo giocatore penso da tre anni pure tu boh strano strano davvero strano strano davvero strano vabbè che hai messo che hai messo? ah la off guarda che è bella queste sono belle guarda che ho già compiuto 14 anni e ciò da due mesi vabbè ma Twitch è gratis cioè per guardare i live è gratis non c'è bisogno dell'età penso per streamare sì l'età per guardare non c'è vabbè allora sono stato fortunato vabbè vabbè allora sono stato fortunato vabbè tiktok e c'è lo schifo lì e tu non volevano per Twitch va strano 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 aspetta che mi tolgo un attimo le cuffie niente è cane è bella una famiglia non male vabbè quello sì hai messo pure tu cooler un milione e tre il mio fa un milione e sei ti dicerà w L'ho attivato, buh, no, aspetta, questo non si è disattivato, ah, il love, che cazzo era, bello che fa così, è per potenzialo, costicchia, vero? Eh, non me lo dici, però, le palle, aspettiamo, ahiai, quando arriviamo, secondo te, boh, che desiderio, sto infinito che si banca, perché se è tutto l'internet da telefono, oh, questo è il nostro telefono, si, mi ha scritto qua in gioco, aspetta, si, costa tanto, allora non si può portare a fare le storie, cosa se va, vi ride, eh, vabbè, capita, Tu non hai il microfono su Roblox? No, non l'ho messo. Però ho Discord, per i miei folderini che ho Discord, che ho messo le stanze di Roblox, con determinata, cioè, con la mia community dove giocano spesso, ho fatto le stanze di mettere i codici, delle, come cazzo, aspetta, si chiamano queste cose, delle modalità, ecco, mi sta facendo male i denti, ah, basta, se ho, ah, no, in disco non posso entrare in tanti dei server. E che te vi succede? Ma a me non succede niente. Quello succede? Il mio server, anzi, è molto tranquillo, cioè, eh, il mio server non c'è niente, cioè, manco scrivono da un pezzo, non scrivono. L'estate, l'estate è movimentato, guarda, nel senso, guarda, si chiamano per giocare, fare, meno. Ma sono persone educate, perlomeno. Accetto solo quelle, ci sono le regole. Vediamo se funziona il comando o il Discord, eh, perché io l'ho fatto il comando, voglio vedere se funziona. Ah, funziona, apposta, hai visto? Io sto, ripostavo del server, aspetta, che non ho letto niente. Ripostavo server, disco 18+, o cose, o cose, eh. Ma no, il mio server è quasi seta. Però, ultimamente, prima di partire, quest'estate, si è popolato di tanti ragazzi di 11 anni, 9 anni, 14, 12, mio moderatore, uno dei miei moderatori ha 12 anni. Fine. In questo momento non c'è. Non è collegato il mio moderatore. Eh, vabbè, sta giocando a Minecraft. Eh, vabbè, chiedelo. Non è un problema, almeno è per te, perché fin di conto trovi i codici, ma poi se tu sai qualche altro codice, mettilo. Capito? Vabbè, per questo ho fatto questo Discord. Mica per parlare. Se puoi parlare è bene, se non puoi parlare è un altro discorso. Non è un obbligo parlare sul Discord, va. Si può scrivere, chiacchierare sul Discord. Ma ultimamente, ripeto, l'ultima scritta, te faccio capire, tipo, l'ultima scritta risale il 19 che l'ho pubblicato io. Però l'ultima scritta, l'ultima è 31, 12. Ma scrivono tanto, va. Ma non c'è di scrivere, scrivo. Allora, che dolore di denti, ragazzi, levatevi i denti sempre. Io ho sbagliato di non farlo su un giorno e mi stanno facendo male le denti. Ah, faccialo cazzo. Eh, appunto, e quindi ti troverai un bel gruppetto, cioè ti fai le quattro risate come ci siamo fatti l'anno scorso. Sì, sì, lo so. Lo vedo pure qua dalla live. Adesso ne ho quattro, giusto? Quando è stata ne avevo una ventina, venticinque. C'era un bordello. Ma io lo capisco. Ecco, pure io quando lavorerò ci sarò molto meno della live. Quindi. È tutto normale. Ci arrivo a potenziarmelo questo. Beh, quanti potenziamenti c'è? Ah, l'ultimo devo fare. L'ultimo devo fare. Tipo, io quest'anno faccio l'esame di rezza media. Eh, tu devi studiare. È normale. Che fa' questa cosa? Abbiamo fatto la mossa finale. Ma io che cosa? Che hanno posizionato? No, hanno posizionato tutto. Il cazzo sta a dire. Hanno posizionato altri tangiri qua indietro. Abbiamo le posizionate. Andiamole, va. E comunque, come dico sempre io, stai sempre attendo alle parole e fai quello che non vuoi fatto. Ad esempio, se io ti dico scemo, tu devi accettarti lo scemo. Ma se tu non mi dici a me scemo, io ti dico che è normale. È normalissimo. Guarda, che cavolo, io devo andare a far pochissimo. Tipo, anche ora che mi devo preparare che poi festeggi il mio compleanno. Ah, addirittura, con il compleanno fai. E allora sono 15. Lo sapevo, 14. Ah, è bene. Esiste un altro popolo, io devo chiudere il proprio comienzo. No, no, ne faccio 14. Ah, ne fai 14, hai visto? Ma le fai oggi? 15. Quindi auguri. Siete auguri, tanti auguri. E allora tanti auguri. A tutti i cenni. Una vita passata. Per me. Ottanta voglia. Se riusciamo a fare cento, va, non è difficile, però se riusciamo, ben venga. E fra poco vado pure io, appena sento il mio nome, devo scendere a mangiare. Che è? Ma che è che sta costruendo? Ah, il cuoco fa così. Sembra incinto proprio. Ah. Ah, se arriviamo a cento sarebbe bello. Guarda tanto che non arrivo a cento. Tipo fare un'infinita, adesso siamo in due. Quest'estate eravamo in cinque. Cinque, sei. Le risate. Oppure i raid, tipo i raid per cooler. Minchia, l'abbiamo fatti tutti subito cooler. Vedi quanto fa. Ma che è il Goku? Eh, hai visto? Vabbè, ma quanto costa? Eh, ho visto che ci sia stato un bel po' per potenzialo, eh? Costicchi a Goku. Beh. Non capisco perché devono farli costicchiare così tanto. O li hanno messi per il coso, per la ganglet, che quasi nessuno se la caga, perché è difficile. O poi, non lo so. Novanta. Dai, l'ottome dieci. Ci riusciamo? Ma... Vediamo. C'è stato 91. Dai, dai, resistiamo. Aspetta altro pochettino. Mentre cinque minuti. Ci riusciamo. Tanto passa. Eh, devo andare. Devo farmi la doccia. Cioè, ci stai. Aspetta cinque minuti. Dai, resisti. Ci riusciamo. Dai. Cinque minuti. Forza, malattie. Cinque minuti. E finiamo. Pure io devo andare a mangiare. Da tanto passa, non ti ripeto. Ha visto? Arriviamo a 94 e passa, guarda. Guarda, ha visto? 95. Va baffa. Sto gioco. Lo conosco meglio delle mie tasche. Vabbè, Matti. Grazie per la compagnia. Auguri. Ci si vede. Domani. Vediamo. Quando mi metto online, se vuoi, mi iscrivete e giochiamo. Ciao, ciao. Io invece, se stiamo un attimo di nuovo qua, la baladam. Idol. Bella. Bella idea, però. Per l'infin... Per l'infinite, sì, però. Io uso il mio team. Allora. Togliamo questa babba. Togliamo sto babbo. E... Allora, allora, allora. Katana. Dove che è? Aspiterina, siamo. Allora, cerca di Katana. Ecco qua. Poi c'è dell'atto. Mi riporto questo. Però questo... No. Questo brucia. Questo congela. Questo sarà il mio nuovo team. E cosa è successo qua? Ma qua devo fare... Aspetta un attimo, eh. Tre missioni. Mi è stato detto che la storia... Mi pare. Vediamo se è vero, eh. Facciamo una storia. Babba. Vediamo che era su questa. Ma comunque, signori. E signorine. Vediamo se c'è l'amico mio. Online. Le facciamo i ride. Perché è giusto. Facciamo i ride al mio amico. Ride. Nel frattempo, però, qua... Devo mettere... Vabbè. Che era così si chiama, sto babbo. Vabbè. No, non lo scema, paffa. Mettiamo i ride a lui. Che io provo, ho fatto... Ah, mangià. Quindi si si vede... Tamani. E ti bravo, vi raccomando. Ciao, ciao.